Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 6 km di coda per un camion in avaria tra in Cisaregello e Firenze Sud e in direzione di Bologna. In carreggiato opposta troviamo coda in uscita a Firenze Sud. Ci spostiamo sulla Firenze Mare e coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Infipilico di attratti per traffico tra Genestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Prima di salutarci per il traffico ferroviario segnaliamo che per un guasto temporaneo e gli impianti di circolazione all'altezza di San Mignatello, i treni sulla Empoli Firenze percorrono la linea lenta. Stiamo registrando ritardi e cancellazioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!